Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Sansei Awakening siamo al 18 di gennaio e ormai è ufficiale che settimana prossima, mercoledì prossimo avremo nel banner Serafina di Poseidone ecco voi il video di presentazione il personaggio è già presente nel sacred quindi già possiamo provare a mettere le mani sul personaggio e nel prossimo video vi farò vedere un po' le sue skill e come impostarlo a livello di cosmi e vediamo se è un personaggio, un EX che vale la pena pullare e skillare visto che il suo costo non è basso a livello di Tommy quindi vedremo come si svilupperà la situazione e per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo, ciao!